... Mercoledì 31 luglio, buongiorno e ben ritrovati per la nostra consueta rassegna stampa del mattino, il nostro appuntamento con le prime pagine, andiamo a vedere cosa ci propongono i quotidiani, ne dico la stamane, come sempre l'analisi delle prime pagine, dei titoli in primo piano, dunque delle anticipazioni per capire poi quali sono i temi caldi, gli argomenti principali di questo mercoledì. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dai quotidiani siciliani, il quotidiano La Sicilia che da qualche giorno dedica spazio in prima pagina anche alle Olimpiadi, capolavoro, questo il titolo, trionfo delle spadiste con le catanesi Santuccio e Fiammingo protagoniste, le fate della ginnastica sono medaglie d'argento, nel nuoto invece bronzo per paltrinieri, dunque arrivano altre medaglie, arriva un'altra medaglia d'oro e in questo caso protagoniste, vedete, delle atlete siciliane, atlete catanesi, dunque complimenti agli azzurri. E poi la guerra dell'acqua e la sete rimane, la crisi idrica, Schifani replica Musumeci, ma il piano del 2020 va avanti a strappi. Si parla anche di viabilità, ANAS, cantieri chiusi per il picco dell'estate, e sulla 114 per Siracusa si lavorerà sino al G7. L'autonomia non mi spaventa, ma le regioni partano alla pari, queste le parole del presidente dell'ARS Galvagno. Sommergibili ad Augusta come opportunità di lavoro, la marina militare guarda al futuro. Cronaca, marina di Ragusa palpeggia una minorenne e le ruba un bacio, arrestato per violenza. A Enna invece droga e cellulari coi droni, business gestito da catanesi, sconti per consegne doppie. Non pizze, ma coca rosa, rider come copertura per lo spaccio a domicilio, in questo caso la notizia arriva da Catania. In attaglio alto, Carlo Verdone, Genovese e Muccino, dopo le serie TV, i registi tornano al primo amore, ovvero il cinema. Giro delle città, partendo da Catania, rapinatore seriale tradito da tatuaggio, è stato tratto in arresto, sempre a Catania, pestato il paninaro parente di Santa Paola. Santa Maria di Licodia, colpi in aria sparati per derubare un corriere, a Biancavilla, morte di un 37enne, l'ASP è stata condannata. Lasciamo il quotidiano la Sicilia, Arrestiamo nell'isola con la prima pagina del giornale di Sicilia. In primo piano ancora l'emergenza rifiuti a Palermo, un'altra fumata nera, questo è il titolo, nessun accordo con i sindacati su straordinari e doppi turni alla RAP per rilanciare la raccolta. La CISL, la città se ne accorgerà, la Galla chiama in soccorso tutte le municipalizzate. E ancora la mossa di Schifani, arriva un contributo di un milione, il sindaco lo ringrazia per il presidente della regione, vedete va tutelata la salute. Parla anche Alongi, ovvero l'assessore all'ambiente, avremo il nuovo spazio a Bello Lampo, pronto l'ampliamento della vasca. Intanto guardate un po', la situazione a Palermo continua a essere questa. L'intervento di Albanese, presidente della Camera di Commercio, fate pagare l'Atari con le bollette, queste le sue parole. La manovra all'Ars, trattative fino a Nottefonda, i 160 milioni da assegnare, e poi i giudici, sorella di Boss e vera donna di mafia, la condanna di Rosalia Messina Denaro, la sorella dell'allora Boss, poi deceduto Matteo Messina Denaro. Consignati invece i lavori per il Ponte Oreto, al via il consolidamento, e si parla di una chiusura parziale. Andiamo in taglio alto, i giochi di Parigi, spadiste d'oro, nel quartetto anche due catanesi, d'argento invece le ginnaste, mentre bombe su Beirut, raid di Israele, ucciso un capo di Hezbollah. L'intervista a Paolo Crepet, i nostri giovani dice, vanno responsabilizzati, basta comodità, divani e cellulari. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, vediamo cosa ci propone stamane in prima pagina la Gazzetta del Sud, ovviamente l'edizione siciliana, l'edizione di Messina, allora si parte proprio da Messina, vi adotto ritiro aperto, o quasi inaugurata, la carreggiata in direzione Catania, ma su quella opposta, fino al 9 agosto, si viaggerà ancora su una corsia. L'assessore a Ricò, non c'è da festeggiare, dice, messo un punto, agibile, un'arteria importante. Spadiste, stoccata, d'oro, ginnastica nella storia, Olimpiadi, paltrinieri invece, bronzo negli 800, si parla in questo caso di nuoto, il trionfo all'ultimo assalto firmato dall'Etnea Santuccio, meravigliose fate d'argento, e vedete questa carrellata di immagini, di esultanza, di abbraccio, e poi anche Greg Paltrinieri con la sua medaglia di bronzo, insomma, cominciano ad arrivare importanti soddisfazioni da queste Olimpiadi francesi. Lasciamo la Gazzetta del Sud, ci spostiamo su Repubblica, l'edizione di Palermo, dunque restiamo ancora in Sicilia, vediamo quali sono i temi affrontati, i titoli in primo piano, Amara, Terra mia, questo uno dei titoli, lo scandalo dei pascoli, arrivano sul tavolo della regione le relazioni delle ASP, sull'allarme per la macellazione clandestina, nei documenti tutte le notizie di reato, e poi l'emergenza, siccità, agricoltori in piazza con un presidio davanti alla presidenza della regione, i contadini hanno chiesto interventi per salvare il settore, messo in ginocchio dalla siccità, da questa grave crisi idrica che da mesi ormai attanaglia la Sicilia. Occhio invece a questo caso, riportato sempre da Repubblica Palermo, torna allo spettro dei diplomifici all'Istituto Platone, beffati 82 studenti. Altre notizie, si parla di diritti, il garante nell'inferno della sezione 9 del Lucciardone, il carcere. Le parole invece di Gaetano Galvagno, nell'autonomia scabrosa, senza di parità alla partenza, queste le parole di Galvagno. E infine, questa storia, fondazione piccolo, tra debiti e mutui, in vendita, la villa del Gattopardo. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo però sulla Repubblica, con la prima pagina dell'edizione nazionale, si parla di Stato di diritto, andiamo a vedere il titolo e poi il dettaglio, Meloni attacca Repubblica. La Premier da Pechino mette nel mirino la stampa non allineata, includendo Domani e Fatto Quotidiano. Colpa loro, se Bruxelles ci critica, dichiarato la Premier, e definisce le testate portatori di interesse. Insorgono la Federazione Nazionale, Stampa Italiana, il PDI, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra. Inaccettabile fare le liste di proscrizione dei giornali. Intanto l'ex direttore dell'Economist, Emmott, le accuse dimostrano la sua debolezza. Ovviamente le parole riferite alla presidente Giorgia Meloni. Da Repubblica alla prima pagina del Corriere della Sera che invece apre con questo argomento molto molto importante, molto delicato, colpo al cuore di Hezbollah, raid di Israele, ucciso il consigliere militare di Nasrallah, la Casa Bianca, parla di una guerra ancora evitabile. Dunque bisogna evitare l'escalation. Questo chiedono dagli Stati Uniti. L'attacco in Libano dopo la strage nel Golan, la risposta, lancio di razzi sullo stato ebraico, Tajani pronti a tutelare gli italiani. Questa la posizione netta da parte di Tajani. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, lasciamo il Corriere della Sera. Questa è la prima pagina invece della Quotidiano. La stampa, l'argomento di riferimento è sempre lo stesso. furia Israele, raid su Beirut, colpito il numero due di Hezbollah, responsabile del massacro al campo di calcio, pioggia di razzi sulla Galilea. Questa dunque è la risposta di Netanyahu, la risposta di Israele. L'ira di Mosca, violato il diritto internazionale, gli Stati Uniti, abbiamo visto prima, non vogliamo l'escalation, si può ancora evitare la guerra. In taglio centrale invece il Quotidiano La Stampa celebra le nostre regine di spada, storico oro nella scherma femminile, argento invece alle ginnaste e bronzo nel nuoto per paltrinieri. Dalla Quotidiano La Stampa alla prima pagina del giornale si parla di scontro sui media, stampa, scoppia il caso dossier. I quotidiani di sinistra attaccano il giornale per aver scoperto il trucco dei report sull'informazione, autore Rai insulta Giorgia Meloni. Israele vendica i bimbi calciatori, ucciso l'organizzatore della strage, Raid su Beirut, colpito il leader di Hezbollah. Ricordate invece questa orsa che uccise un turista, è stata uccisa l'orsa KJ1 in Trentino, il dibattito tra favorevoli e contrarie appunto a questo abbattimento, a questa uccisione. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme questa mattina, vi proponiamo ad esempio la prima pagina del Fatto Quotidiano che apre con questo argomento, politica e affari, la maledizione PD, caso Ermini, Orlando, via dal gruppo Spinelli. Lui invece dice, resto la terra dei Toti, idem in imbarazzo per l'ennesimo ex che si dà al business col RAS di Genova agli arresti, Sansa fuori dal totismo. Poi chiaramente tutto l'approfondimento su questa vicenda, su questa notizia, all'interno dell'edizione odierna del Fatto Quotidiano. Proseguiamo con la nostra rassegna, ci spostiamo sulla prima pagina del Messaggero, andiamo a vedere quali sono i titoli in primissimo piano, le bombe di Israele su Beirut, attacco mirato dopo la strage del Golan colpito il quartier generale di Hezbollah, abbiamo ucciso il vice di Nasrallah, i miliziani smentiscono e minacciano la Galilea. Il PIL continua a crescere, vedete, una crescita moderata, la sfida alla deindustrializzazione, quarto segno positivo, meglio della Germania. E poi ampio spazio ai giochi di Parigi, alle Olimpiadi, alle ultime vittorie italiane, Sorelle d'Italia, Festa Azzurra a Parigi, Oro delle Spadiste, Argento Storico delle Fate della Ginnastica e Paltrinieri e Bronzo negli 800 stile. E vedete queste belle immagini, insomma, che non ci stancheremo mai di vedere, immagini di esultanza da parte, in questo caso, di atlete azzurre. Dalla Messaggero alla prima pagina di Libero, che torna, per certi versi, alle Olimpiadi di Parigi, nella Senna fino al collo, la leccialtronia di, così le definisce Libero, di Macron. Perché questo riferimento alla Senna? Perché il fiume è verde e inquinato, saltano dunque le prove per le gare, per ripulirlo sono stati spesi 1,4 miliardi, atleti furiosi, furiosi e spunta pugile trans contro italiana. E dunque, vedete, le Olimpiadi secondo Libero diventano le cialtroniadi di Macron. In taglio centrale insultano Giorgia perché viaggia con la figlia Meloni in Cina, con Ginevra, il caso dell'autore Rai, e la fogna social. E poi, bombe su Beirut per decapitare Hezbollah, Israele colpisce la roccaforta dei terroristi, ucciso il numero due. Questi i titoli, alcuni dei titoli, in primo piano su Libero. Parliamo adesso di sport, andiamo a vedere come tutte le mattine le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Ovviamente, ampio spazio alle Olimpiadi, ampio spazio ai successi degli azzurri, della giornata di ieri. Partiamo dalla gazzetta, ragazze nella storia, scherma e ginnastica, gioie d'Italia. E vedete in questa foto, appunto, le ragazze della scherma e le ragazze della ginnastica. Il primo oro della spada, Fiammingo, Navarria, Rizzi e Santuccio, finale da urlo, francesi battute a casa loro, all'ultima stoccata. Mentre, per quanto riguarda la ginnastica, fate d'argento, 96 anni dopo, Andreoli, D'Amato, Esposito, Iorio, Villa, solo gli Stati Uniti della Biles, meglio delle azzurre. E dunque, ribadiamo i nostri complimenti alle nostre atlete, complimenti anche a Gregorio Paltrinieri per il suo bronzo nel nuoto. Il Corriere dello Sport, ovviamente, celebra i successi degli italiani e delle italiane a Parigi. le fate esistono, altre tre medaglie italiane all'Olimpiade, oro nella spada e storico argento nella ginnastica. Dopo 96 anni arriva un podio nell'artistica, mentre trionfano le ragazze della scherma, ma Paltrinieri bronzo negli 800 per quanto riguarda il nuoto. E chiudiamo con la prima pagina di Tutto Sport che, vedete, definisce i nostri atleti a Parigi un dream team. Le ragazze della spada conquistano uno storico oro. Stoccata vincente di Santuccio al supplementare contro la Francia dopo una favolosa rimonta. Decisivo l'ingresso di Navarria al posto di Fiammingo, strepitosa Rizzi e il primo trionfo ai giochi delle Azzurre nella prova a squadra. Dunque stamane ovviamente grandi celebrazioni meritate, celebrazioni per gli atleti e le atlete italiane alle Olimpiadi e ovviamente ci auguriamo che già nella giornata di oggi, insomma, in queste prossime giornate dei giochi possano arrivare nuove soddisfazioni. Intanto noi ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampo di Erna dopo aver fatto e concluso il giro delle varie prime pagine partiamo però a breve con tutte le nostre edizioni di Spazio Notizia per aggiornarvi lungo questo mercoledì lo sapete l'informazione non si ferma sui nostri canali e allora anche oggi vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi. a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi a ancora